In questi giorni è uscito un decreto del governo che fa riferimento al nuovo codice della strada e si sono avute delle grandissime sorprese. Direi, si pensava normalmente quando esce una legge, si pensa che la legge aiuti. E devo dire che i commenti che si hanno ormai a tutti i livelli, i livelli importanti, nel nostro paese, dall'ACI in prima che rappresenta poi un milione di persone, ed è presente in tutta Italia, quello che emerge è che si vanno alla strada sbagliata. Si era convinte che se uscissero qualcosa, perché si vanno alla strada sbagliata? Perché si mette in crisi il discorso della sicurezza, perché le piste ciclabili devono essere qualcosa di insicurezza, si creano delle condizioni per cui in ogni luogo della città si possono essere autovelocche. Abbiamo verificato che spesso e volentieri, neanche segnalate come dovrebbero, i mari si dimostrano luoghi per fare soldi, non solo per, giustamente, frenare la velocità, ma diventa uno strumento per arricchire le casse dei comuni. C'è tutto il discorso dei semafori, che si vogliono portare i semafori nei tre secondi, quando i tecnici dicono che ogni semaforo deve essere studiato, perché va dalla sicurezza, ne vanno da tanti e tanti sono gli aspetti, per cui è un compito estremamente delicato. dal discorso delle bici e dei monopattini, che secondo questa proposta possono andare contromano, per cui mentre una macchina cammina ti vedi arrivare verso di te le biciclette e i monopattini, e devo dire che, non dico niente di particolare, ma posso dire tranquillamente che vedi ogni giorno gente in bicicletta, a piedi in monopattina, anche da noi, che attraversano col rosso, e ora, credo che invece il buonsenso dovrebbe portare a dire che bisogna fare le cose con estrema intelligenza ed estrema serietà. La bicicletta per noi è sempre stata una qualcosa di bello, che abbiamo sempre desiderato, e credo che in Bergamasca sia un fatto talmente importante il discorso della bicicletta che la amiamo, direi, tutti in generale. Direi che questa è una terra che ha anche fatto delle piste ciclabi, permettetemi di poter dire che da presidente penso di averne fatto qualcuna di importante, il Sareano, il Brembana e non solo, il Papa Giovanni, ma sono parecchie, per cui nessuno può dire che posso essere contro le biciclette, ho favorito sempre anche tutto il discorso del mondo. Però quando penso alla sicurezza per me è un fatto estremamente importante e ciò che mi fa paura in particolare sono questi monopattini che vanno veloci, che si girano tutte le parti, che non hanno targa, gente senza il casco ed è un qualcosa che sembra che possono andare ovunque, a scapito di tutti e di tutto. Non è possibile. Noi dobbiamo fare in modo che questo che avviene sul territorio sia fatto in un modo regolare, con buon senso, dove nessuno fa a scapito di altri. Per noi è importantissimo che gli automobilisti possano vivere con serenità e non si trovino in condizioni di grande difficoltà perché non siamo tutti giovanissimi. Direi che l'automobile è un qualcosa che c'è, continuerà ad essere ed è nell'interesse del paese perché è anche un fatto di grande economia. L'automobile rappresenta una parte importante dell'economia anche bergamasca. Allora, di fronte a queste cose credo che serva che ci sia grande, grande, grande attenzione e che vengono rispettate delle regole tutti. Le altre cose che stanno emergendo, il discorso è un tema che si debate da tanto tempo, il discorso del diesel. C'è voglio anche qua. C'è chi fa le macchine elettriche sicuramente non sono le aziende italiane, ma sono quelle straniere. Allora, visto che le aziende italiane lavorano sul diesel e sono all'avanguardia in questi settori, da studi fatti dall'ACI nazionale, per conto dall'ACI nazionale, ma dai grandi studi, viene dimostrato che l'euro 6, fatto come si deve, è meno inquinante di quelli che vanno a batterie elettriche perché c'è tutto il discorso delle pile, non pile, dell'ACI nazionale. Allora, anche qua, il nostro paese sta vivendo un momento di grande difficoltà dal punto di vista economico e non solo, per cui tutti dobbiamo lavorare perché questo paese esca da questa situazione. Abbiamo oltre 500 mila gente che ha perso il posto di lavoro in questo lockdown. Ce ne preannunciano tantissimi altri perché questa è la realtà purtroppo quando scadrà il termine che non si può licenziare alla fine dell'anno, ma allora vogliamo aiutare questo paese a crescere o lo vogliamo forzare del tutto? Solamente perché qualche osservo intellettuale ci dice o no che bisogna fare alcune cose a scapito del resto. Un altro dei temi che abbiamo visto all'interno del decreto fa riferimento anche al discorso vigilanza. La vigilanza è delle forze di polizia, dei vigili, via via. C'è anche il fatto che quelli che noi richiamiamo normalmente operatori ecologici che una volta erano chiamati gli spazzini in modo non dispregiativo ma è un fatto normale. Oggi possono fare anche le multe, fanno un corso e possono essere coloro che ti fanno dei verbali. Io spero e mi auguro che queste cose le possano fare solamente la vigilanza, i vigili dei paesi, dei comuni, perché sono passaggi talmente delicati dove occorre grande professionalità. Senza togliere nulla a nessuno, noi abbiamo bisogno di certezze giuridiche, di certezze di comportamento per cui ognuno deve fare il suo mestiere. Le forze di polizia, in questo caso i vigili, debbono poter fare tutto questo e se ci sono delle cose che non funzionano vengono segnalate alla polizia municipale ma nessuno deve poter fare multe o cose di questo genere. Questo è anche un fatto di civiltà e di serietà. C'è un dato estremamente importante specialmente per i giovani che sono quelli più attrati anche a noi la bicicletta è sempre stata una cosa che ci ha attratto e ci attrae perché abbiamo fatto una serie di cose. Allora, credo che nelle scuole si debba ricominciare a parlare di educazione civica, educazione alla sicurezza se vogliamo se vogliamo che i nostri giovani crescano con un quadro completo di ciò che noi viviamo perché se ha forza di estremizzare le robe alla fine non si può che raccogliere quando uno semina vento si dice raccoglie tempeste noi non ce lo possiamo permettere questo paese non se lo può permettere questo paese deve costruire con buon senso e direi con intelligenza. Io vorrei ricordare che la realtà bergamasca ha dato grandi campioni nello sport da Gimondi a tante altre a Savoldelli a via via tanti altri siamo delle province più sportive dal punto di vista anche ciclistico d'Italia cosa volete di più? Vuol dire che la bicicletta da noi è amata ed è rispettata ed è utilizzata però bisogna utilizzarla con intelligenza perché non diventi uno strumento purtroppo di dolore noi abbiamo bisogno di avere momenti di serenità e di guardare avanti per costruire questo è l'obiettivo che l'ACI ha e su cui l'ACI si batterà fino alla fine